Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi abbiamo con noi la dottoressa Cassago che ci parlerà un po' di pediatria, quindi lascio subito la parola a te Silvia, parlaci un po' di te, dici chi sei e cosa fai attualmente e poi partiamo subito con le domande. Ciao a tutti, grazie per le domande, per l'intervista, grazie per seguire questo video. Io sono Silvia Cassago e sono attualmente specializzanda al quarto anno di pediatria. Sono specializzanda dell'Università di Milano Bicocca, quindi ho svolto la mia specialità principalmente tra gli ospedali di Monza, quindi San Gerardo di Monza e l'ospedale di Bergamo in cui sto lavorando attualmente. Perfetto, perfetto. Allora partiamo subito con una prima domanda bella importante. Cosa si fa nei cinque anni di specializzazione? Quindi quali sono le cose principali che si svolgono nei cinque anni? Ok, allora, principalmente la pediatria è una materia vastissima, chiaramente perché è la medicina interna del bambino e si fanno diverse sub-specialità, chiaramente c'è la pediatria generale che riguarda il reparto di pediatria, riguarda il pronto soccorso pediatrico che comunque è anche una branca importante che ci permette di entrare in contatto con l'emergenza pediatrica. C'è la parte di neonatologia che ti permette di affrontare tutta la parte del neonato, dal neonato fisiologico al neonato patologico, alla prematurità, alla rianimazione in tala parte. E quindi c'è tutta la parte di terapia intensiva neonatale che è una parte importante di cui si occupa il pediatra neonatologo. E poi ci sono tutte le sub-specialità pediatriche, ovvero la scuola di Bicocca in particolare è famosa per l'onquematologia pediatrica che è diciamo la sua specialità più rinomata perché comunque abbiamo un centro di riferimento pediatrico per la Lombardia e oltre a questo ci sono tantissime sub-specialità, ad esempio attualmente a Bergamo c'è l'ospedale di Bergamo c'è la sub-specialità in epatogastroenterologia pediatrica con anche il trapianto pediatrico, il trapianto di fegato pediatrico. Al di là di questo qualsiasi tipo di sub-specialità internistica dell'adulto chiaramente è applicato alla pediatria, quindi è veramente molto 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 vasto. Perfetto. Diciamo che si fanno magari delle turnazioni di qualche mese in ognuna di queste sub-specializzazioni all'arco di cinque anni o magari uno sceglie più o meno verso cosa orientato e si indirizza già durante i primi anni? Non so, chiedo. Allora, è molto variabile da specialità a specialità. Noi abbiamo un percorso formativo in cui si ha un percorso prestabilito con delle turnazioni di determinati mesi in diverse sub-specialità che sono previste dal nostro piano formativo e successivamente chiaramente un pochino anche in base alle inclinazioni personali si sceglie quello in cui si vuole specializzare, si può richiedere la tesi piuttosto che si mettono delle preferenze sulle turnazioni. Ok, ok, perfetto. E se ti dicessi di descrivere una tua giornata tipica saresti in grado di dirci più o meno come si svolge? Allora, è molto variabile, diciamo, da turnazione a turnazione. Attualmente sono in reparto di onquematologia pediatrica qui all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e diciamo la giornata tipo si svolge, cioè inizia alle otto del mattino abbiamo un meeting iniziale in cui si discute dei pazienti che abbiamo ricoverato in reparto e dei pazienti che verranno come ambulatoriali o dei hospital si discute tutti insieme con i medici del reparto e gli altri specializzanti ci si divide i compiti della giornata e un pochino in base al fatto che svolgeremo la giornata in reparto piuttosto che in ambulatorio si va poi a svolgere effettivamente l'attività della giornata. poi tendenzialmente c'è un debriefing verso l'una di pomeriggio in cui si discute insomma della clinica del paziente, degli esami si prendono le decisioni insieme agli strutturati e poi successivamente nel pomeriggio si svolge un pochino l'attività un pochino più burocratica di lettere piuttosto che si finiscono le attività del mattino si ridiscutono magari i pazienti ambulatoriali si risentono magari le famiglie dei pazienti ambulatoriali che sono stati mandati a casa piuttosto che si accettano i ricoveri dal pronto soccorso poi generalmente abbiamo settimanalmente delle guardie che possono essere guardie in reparto piuttosto che in pronto soccorso e quindi spesso si scende in pronto soccorso si termina la giornata, si fa la guardia di pronto soccorso si fanno alcune ore appunto a visitare i bambini per le loro problematiche per cui si sono presentati in pronto soccorso a volte ci sono le notti le notti sono in pronto soccorso in cui lo specializzando diciamo affianco allo strutturato nell'attività di pronto soccorso con visita diciamo in autonomia guidata a volte comunque si visita sempre con lo strutturato si raccoglie l'anamnesi e si prendono le decisioni insieme allo strutturato e si decide un pochino il destino di questo paziente si tenerlo in osservazione piuttosto che ricoverarlo piuttosto che magari dimetterlo dare una terapia domiciliare e poi ci sono i weekend nei weekend si fanno il guardia pressoché o in reparto o in pronto soccorso sempre ok una domanda che mi sorge subito spontanea io ho già fatto il titolo di pediatria che in realtà è stato molto breve infatti vorrei farne un altro adesso volontario vediamo se riesco com'è la visita di un paziente pediatrico rispetto alla visita dell'adulto che più che adulto di solito sono anziani che si visitano durante i sei anni in medicina perché alla fine sono in medicina interna insomma nelle principali cliniche sono soprattutto anziani ricoverati quindi cosa cambia com'è visitare un bambino di due, cinque, sei, otto anni piuttosto che anziché insomma di un anziano di 70, 80, 90 anni allora vabbè è una visita comunque testa a piedi quindi generalmente è molto simile quello che cambia è che spesso il bambino non è collaborante comunque non è in grado di divirti perché problema si presenta quindi è sempre molto molto importante fare un esame obiettivo ben fatto per non non tralasciare nulla quindi chiaramente si volta la neurologia si vede il bambino se è vigile se è bello reattivo se non ha deficit focali molto spesso è anche difficile fare un esame obiettivo neurologico classico perché chiaramente il bambino piccolo non è collaborante quindi è difficile fare non lo so fargli tenere un mingattini è molto complesso però magari giocando cioè con il gioco si riesce comunque a valutare la sua neurologia se è normale se è febbrile ad esempio si vede si devono sempre valutare se ci sono dei segni meningi piuttosto che chiaramente poi andando testa a piedi è molto importante valutare sempre loro faringe vedere se ci sono segni infettivi a livello a livello del cavo orale piuttosto che le orecchie che comunque spesso chiaramente nella patologia infettiva dei bambini sono molto coinvolti l'auscultazione ovviamente chiaramente all'inizio i parametri vitali questo lo davo per scontato perché spesso in pronto soccorso li abbiamo già registrati dal triage o comunque si rivalutano e poi fare un esame obiettivo testa a piedi fatto bene quindi chiaramente l'auscultazione toracica l'auscultazione cardiaca la palpazione dell'addome sentire gli organi ipocondriaci se sono palpabili se sono ingranditi valutare anche le stazioni linfonodali se sono presenti se sono palpabili e chiaramente il colorito cutaneo se sono anemici piuttosto che altro perfetto perfetto invece un'altra cosa che ho notato che è molto diversa cioè non è che c'è solo un rapporto col paziente in questo caso ma anche con i genitori perché negli altri reparti insomma bene o male solitamente al massimo c'è l'ora di visita di mezz'ora ma nelle parti di pediatria sono presenti penso H24 uno dei due genitori credo quindi com'è questa cosa di avere a che fare sempre insomma quasi sempre anche con i genitori dei pazienti allora è sempre è sempre diciamo un'arma a doppio taglio nel senso che allora loro ti aiutano moltissimo perché chiaramente loro conoscono i loro bambini e sono in grado di riportarti magari la sintomatologia che tu non capirassi magari un genitore mi dice il mio figlio è super attivo in saltella tutto il giorno in giro per la casa adesso non è lui e quindi chiaramente questo ti aiuta molto nel discriminare una situazione di potenziale allarme è chiaro che chiaramente il genitore spesso è molto molto preoccupato per la condizione del figlio quindi bisogna bisogna fare un pochino anche di maternage al genitore spesso bisogna fare anche un pochino banalmente educazione sanitaria al genitore perché a volte non sanno che cosa fare in condizioni magari banali magari il bambino ha la febbre e sono molto preoccupati perché non scende la febbre e bisogna spazio rassicurarli questo sì ok ok perfetto dicevamo prima le guardie notturne oppure diurne insomma nel weekend più o meno quante saranno in un mese giusto per avere un'idea di quanto impegnativa è la specializzazione nel tuo caso insomma a Milano Bicocca però in generale come è allora è variabile un pochino in base al numero di specializzanti che sono internazioni attualmente noi abbiamo circa un paio di guardie una barra due weekend al mese e dal punto di vista delle notti un numero simile quindi una due notti al mese un pochino variabile in base chiaramente ai mesi più lunghi alle festività piuttosto che quanti siamo come rotazioni certo e quindi vedi che si riuscirebbe comunque a fare anche un lavoro extra tipo guardia medica qualcosa del genere o è abbastanza impossibile quegli orari consigliare tutto allora ci sono dei colleghi che l'hanno fatto io personalmente non l'ho fatto perché poi chiaramente c'è anche tutta una parte di studio di studio personale nel tempo libero quindi chiaramente è molto molto difficile consigliare entrambe le cose anche perché banalmente i turni settimanali sono lunghi quindi dipende con due weekend al mese già occupati con l'attività lavorativa fare altri weekend lavorativi certo è possibile però è molto molto complesso certo certo e tra l'altro esiste la guardia medica pediatrica giusto? è diversa dalla guardia medica normale? parlo da ignorante totale ovviamente esiste la guardia medica pediatrica però onestamente non so se da specializzando la si può la si può fare penso di sì sicuramente si può sostituire medici cioè medici medicina generale piuttosto che pediatri quello sia una cosa che può fare lo specializzando di pediatria non sono sicura che sia che sia possibile questo questo non lo so ok ok e dopo i 5 anni di specializzazione secondo te si è cioè più che altro mi viene in mente che bene o male si fa hai detto qualche tornazione in neuro in quematologia forse anche cardiologia immagine insomma alla fine si riesce a sapere tutto di tutto o si sa un po' di tutto cioè nel senso dopo i 5 anni si riesce a destreggiarsi bene ogni branca o comunque cioè tu hai la tua sub specializzazione però sai comunque fare un po' in generale tutto quanto allora è molto variabile nel senso che poi ognuno sceglie un pochino la sua strada e chiaramente uno si sub specializza in quello che 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 gli piace di più che a cui è poi portato anche banalmente per quanto riguarda la realtà che che ho visto in questi anni spesso comunque all'interno di un ospedale si fanno delle guardie multidipartimentali per cui ad esempio il pediatra che lavora in pediatria è magari una sub specialità non lo so in pneumologia per cui fa un ambulatorio di pneumologia si occupa pressoché di casi pneumologici chiaramente il reparto di pediatria viene a contatto con tutti i casi pediatrici e poi durante la guardia deve occuparsi anche di casi oncologici piuttosto che trapiantati e quindi chiaramente deve destreggiarsi anche con con questa con questo tipo di di sub specialità sì certo perché mi viene in mente si fa riferimento si fa riferimento cioè nelle decisioni importanti si fa riferimento chiaramente allo specialista però per gestire il l'emergenza cioè si deve sapere un pochino tutto certo perché giustamente magari in un ospedale universitario ci sono anche diversi reparti specifici dove magari lavorano appunto quelli che hanno quella suddetta sub specializzazione però magari mi viene in mente l'ospedale periferico con 8-10 letti di pediatria che magari ci sono giusto 3 o 4 pediatri che ci lavorano in quel caso penso che uno comunque debba un po' fare anche più cose nel senso non magari solo l'unica cosa su cui è sub specializzato ma coprire un po' anche altri ambiti credo certo assolutamente poi chiaro il caso più più complesso è anche giusto riferirlo al centro di riferimento per patologia per avere chiaramente il trattamento migliore per il paziente ok ok detto questo quindi quali sono gli sbocchi professionali post specializzazione nel pubblico e nel privato allora c'è sicuramente la possibilità di fare il pediatra di libera scelta quindi lavorare in autonomia in un ambulatorio e fare appunto il pediatra che si dita la la sua parte di popolazione pediatrica e questa è una delle possibilità l'altra possibilità l'altro mondo è un pochino il mondo ospedaliero che è fatto principalmente da reparto di pediatria con pronto soccorso pediatrico e eventualmente attività ambulatoriale annessa ci sono appunto pediatri che si dividono un pochino in base ai turni sul sul coprire chiaramente il pronto soccorso fare delle tornazioni in reparto e poi spesso magari un paio di volte a settimana c'è l'ambulatorio dedicato alla propria subspecialità oppure anche subspecializzarsi appunto in qualcosa come ad esempio l'oncologia pediatrica e quindi lavorare in un reparto specifico che può essere appunto l'oncologia pediatrica e a quel punto appunto ci si divide sul reparto e sull'ambulatorio oncologico questa è una delle possibilità c'è tutta la parte di neonatologia che appunto copre la parte dell'enonato fisiologico la parte della della terapia intensiva neonatale con anche la subintensiva neonatale e la parte di rianimazione in sala parto e quindi tutto nel momento in cui c'è c'è un rischio di neonato patologico il pediatra il neonatologo va in sala parto e assiste appunto al parto eventualmente eccetera se c'è la necessità di rianimazione fa gli animali di neonatio e quindi questi sono gli sbocchi poi ce ne sono veramente tantissimi al di là di certo certo cioè ipoteticamente uno può aprirsi anche un ambulatorio privato per conto suo volendo penso non so se ci sia tanto lavoro in quel ambito lì però mi viene in mente sì certo nel senso non lo so se uno ha una specialità in non lo so endocrinologia pediatrica può ricevere anche in privato certo assolutamente ok e domanda sempre sul lavoro in questo caso secondo te forse anche un po' più personale non so cioè visto il calo di nascita degli ultimi anni può essere che sia una specializzazione che andrà a essere meno richiesta nei prossimi 5-10-20 anni o no ma c'è in realtà il calo di nascita è un pochino cioè è relativo nel senso che comunque c'è anche una forte immigrazione che comunque determina un numero di nascita sempre comunque sostanzioso quindi noi abbiamo abbiamo pazienti abbiamo molto lavoro attualmente quindi non credo che andrà un pochino a scomparire non penso proprio vabbè scomparire spero di no quello spero di no anche io no comunque in realtà sì tra l'altro ho visto che adesso girano diversi grafici che mostrano che una delle specializzazioni che mancherà di più nei prossimi anni sarà il pediatra perché tantissimi andranno in pension nei prossimi 5 anni quindi insomma io penso che ce ne sarà abbastanza bisogno nei prossimi 5-10 anni comunque poi vedremo e altra cosa invece che è venuta in mente sempre durante la specializzazione cioè le cose più adesso mi viene in mente così ad esempio non so gastroenterologia pediatrica non so un'endoscopia pediatrica si impara a fare durante i 5 anni oppure magari solo quelli che sanno già che vogliono andare a fare il gastroenterologo pediatrico allora magari non so si puntano su quello e quindi imparano a fare quello non so ipotizzo è molto variabile anche in base alle rotazioni che fai in base al tuo interesse personale secondo me è molto variabile ok ok perfetto e invece ci sono dei master che si possono fare durante o dopo la specializzazione per appunto non so implementare la sub specializzazione che vogliamo scegliere o qualcosa del genere questo sì cioè sicuramente ci sono una serie di master cioè su questo ce ne sono tantissimi che si possono fare anche cioè in base ai propri interessi personali quello che si vuole fare sì ok ok e invece c'è anche la possibilità di fare ricerca comunque volendo anche poi restare magari proprio in ambito universitario fare ricercatore addirittura e poi professore sì c'è la possibilità di fare ricerca c'è la possibilità di fare ricerca anche a livello proprio laboratoristico cioè mi viene in mente il mondo dell'onquematologia cioè spesso collaboriamo comunque con con dei laboratori e quindi si può si può fare anche attività di questo tipo assolutamente sì ok ok ricerca scientifica dal punto di vista di studi clinici questo assolutamente sì ok a livello invece di altra domanda un po' così non lo so cioè secondo te rispetto alle altre specializzazioni è una specialità che ha di più di meno responsabilità anche visto il fatto che comunque non si ha a che fare con pazienti di ripeto è un discorso molto terra a terra di 85 90 95 anni ma comunque di pazienti anche talvolta che sono appena nati quindi non so magari mi viene in mente che una anche un po' più di ansia nell'agire nel prescrivere anche semplicemente un farmaco qualcosa del genere o viceversa il fatto che magari siano anche più giovani è un punto a favore nel senso che comunque magari sono meno fragili non lo so quindi dimmi un po' cosa ne pensi di questa cosa qua allora no è sicuramente molto molto complesso si deve si deve chiaramente essere sempre molto molto precisi molto molto scrupolosi perché chiaramente si ha a che fare con dei bambini spesso che sono chiaramente sani prima di entrare in ospedale o comunque con non lo so ad esempio i neonati con tutta una famiglia che si sta creando delle aspettative genitoriali e quindi chiaramente è veramente molto molto complesso anche banalmente gestire le emotività dei genitori di fronte alla malattia di un bambino è molto difficile bisogna essere dei punti di riferimento per la famiglia questo è una cosa che noi cerchiamo di fare cerchiamo chiaramente di di trovare cioè di di capire dei punti di fragilità di eventualmente anche non lo so sociali piuttosto che psicologici di una famiglia e supportarla al meglio chiaramente supportare il bambino a 360 gradi chiaramente se noi in pronto soccorso vediamo un bambino perché ha un gotite ma ci rendiamo conto che c'è una situazione di disagio piuttosto che ha un altro problema bisogna cercare di promuovere cercare di risolvere anche questo tipo di problema perché diciamo il nostro compito è anche quello di tutelare l'infanzia questo sì certo è una cosa che ho notato anch'io nel mio piccolo diciamo in quei pochi giorni che ho fatto nel senso si prescrivono veramente tanti prima di dimettere un paziente pediatrico si va veramente a fondo del problema cosa che è brutto dire però in medicina interna non si fa più questa cosa nel senso che comunque si cerca di mandare a casa il paziente sistemarlo un po' e poi mandarlo a casa bene o male invece si vuole escludere qualsiasi tipo di altro problema anche più marginale poi si dimette il paziente che questa è una cosa che mi ha fatto molto piacere comunque che è un modo di lavorare un po' diverso insomma del classico paziente internistico per dire o di geriatria addirittura altra domanda quindi parlaci un po' anche dei confini tra pediatria e chirurgia pediatrica magari oppure anche di altre sub specializzazioni che magari possono essere confini tra pediatria e qualcos'altro ecco così allora vabbè chiaramente c'è tipo il pediatra e l'internista del bambino mentre invece per quanto riguarda tutta la parte chirurgica c'è una figura a sessante che si occupa di questo sia chiaramente la parte della sala operatoria ma anche tutta la patologia chirurgica che vede a livello ambulatoriale che è il chirurgo pediatrico poi mi viene in mente non lo so ad esempio per quanto riguarda la cardiologia pediatrica spesso sono i cardiologi che si sub specializzano in cardiologia pediatrica piuttosto che i pediatri che diventano poi cioè è più difficile non è che non si può fare però è molto più difficile perché c'è proprio una formazione specialistica differente sulla cardiologia chiaramente anche la parte di radiologia noi come pediatri magari utilizziamo l'ecografia per fare delle valutazioni ecografiche ecofast piuttosto che però spesso ci serve se si vuole specializzarsi in quello di solito si fa la specializzazione dell'adulto e poi si va sul pediatrico anche per quanto riguarda la terapia intensiva pediatrica a differenza della terapia intensiva neonatale che è gestita praticamente solo da neonatologi la terapia intensiva pediatrica è gestita da anestesisti in tantissime ragioni non in Veneto in cui ci sono anche i pediatri questo è differente dipende un pochino dalle varie ragioni però appunto ci sono delle specializzazioni che c'è delle sub specialità che si possono fare tranquillamente facendo la pediatria e poi chiaramente sub specializzandosi mentre altre è un pochino più più complesso quindi si fa prima la specializzazione dell'adulto si acquisiscono delle skill sull'adulto che poi si reinventano si riapplicano si specializzano sul paziente pediatrico certo certo perfetto ad esempio la cardiologia adesso mi viene in mente che i cardiologi già fatto un mese di tirocini in cardiologia cioè una gran parte della cardiologia comunque è l'emodinamica esatto anche là non so se durante i 5 anni di pediatria si entri mai in una sala di emodinamica pediatrica o se o se addirittura ci sia qualcosa da fare nel senso che boh non so allora sì c'è c'è allora esiste la sala di emodinamica pediatrica però è veramente molto difficile c'è chiaramente a meno che non ci sia un interesse particolare da parte di un paziente ma anche un centro cardiologico importante un centro cardiologico pediatrico importante è molto molto difficile vederlo durante la specialità di pediatria ok ok perfetto perfetto e come mai invece tu hai scelto questa specializzazione ecco io volevo fare volevo una specializzazione internistica volevo non volevo diciamo limitarmi a fare una sub specialità e quindi inoltre mi piaceva molto molto l'idea di lavorare con il bambino mi piace molto questo questo modo di lavorare che dicevi tu cioè prendersi cura a 360 gradi del paziente di qualsiasi sua problematica e e quindi questa è una cosa che si fa che si fa in pediatria che si fa molto bene infatti infatti quello che ho visto anch'io e cosa che sub specializzazione vorresti fare hai già scelto se vuoi fare qualcosa di specifico o non si sa ancora allora al momento sto ancora un pochino valutando quello che mi piacerebbe fare la neonatologia quindi ulteriormente una fascia d'età ancora più più ristretta però diciamo a 360 gradi sulla nascita sul primo mese di vita perfetto perfetto che poi in realtà il mio problema al momento è scegliere cosa fare dopo di specializzazione quindi questo mi allungherebbe di qualche anno scelta infatti la sua valuta non è per questo che la sto valutando però effettivamente sì anche per il fatto che ti ripeto anche medicina interna mi piace abbastanza però da quello che ho visto insomma non è anche là in realtà fai solo una cosa specifica durante gli anni o fai tipo o epatologia o fai malattie trombotiche o piuttosto che fai non so ti sub specializzati anche là durante gli anni e poi è più una geriatria ormai perché i pazienti hanno tutti più di 70 80 anni quindi è anche molto diverso magari da quello che si pensa comunque vedremo vedremo e altra cosa eventualmente si può anche fare non so lavorare 5-10-15 anni in ospedale e poi non diventare insomma decidere di lavorare come impiegati di libera scelta si chiamano così giusto questo sì assolutamente cioè non si deve fare nessun corso aggiuntivo nel momento in cui diciamo si ha voglia di andare sul territorio si può fare tranquillamente chiaramente trovando trovando la convenzione con la TS però assolutamente sì e lì la situazione com'è nel senso che i meriti di famiglia vedo che sono abbastanza presi male diciamo invece i pediatri sono anche allora forse forse messi ancora nel senso che penso che il massimale di pazienti sia 800 credo che può avere un pediatra di libera scelta non lo so forse qua in Veneto comunque cioè è abbastanza impegnativo anche quello come lavoro è un po' più tranquillo magari rispetto a quello ospedaliero beh sicuramente è un lavoro differente se hanno i propri pazienti che si conoscono si seguono durante la crescita ed è un lavoro molto diverso rispetto al medico ospedaliero che magari prende in carico il paziente nel momento dell'acuzia e chiaramente non lo conosce non conosce la famiglia deve un pochino scoprire tutto lì tutto sommato si chiama un rapporto di fiducia fin dai primi giorni di vita con il paziente con la famiglia e poi lo si porta fino ai 14 anni fino anche fino ai 18 nei casi in cui ci sono dei bambini più fragili quindi è veramente differente è chiaro uno poi si organizza magari l'ambulatorio con i propri orari con secondo il suo modo di lavorare quindi sicuramente questo è un grosso vantaggio del territorio rispetto rispetto all'ospedale che chiaramente comporta sempre di lavorare su turni questo è un pochino il primo vantaggio e poi per il resto è un lavoro differente questo sì questo sì ok è possibile che ti arrivino magari non so due trecento mail o messaggi al giorno dai genitori che sono un po' preoccupati dei figli o qualcosa del genere eh guarda questo non ho una grande esperienza attuale però credo che che sì nel momento in cui il genitore si preoccupa del bambino cioè se è il primo riferimento se si fa veramente questo mestiere fatto bene quindi bisogna anche un pochino destrezzarsi dare la valutarlo sempre il bambino chiaramente perché dare consigli così sul sul riferito è sempre molto difficile e e poi cioè se si vuole fare questo lavoro fatto bene cioè c'è una grande opportunità di 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 evitare anche al al genitore al bambino lo stress di presentarsi in pronto soccorso banalmente non lo so per una patologia infettiva che potrebbe essere gestita tranquillamente sul territorio perfetto perfetto allora siamo verso la fine perché la consiglieresti e perché no perché la consiglierei perché è una specialità che ti permette di studiare la medicina a 360 gradi e diciamo fare la differenza su 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 quei bambini che vedi tutti i giorni questo questo sì perché no non lo so onestamente non lo so non ci sono punti a sfavore quindi perfetto la metteremo tutti come tra le scelte del test quest'anno no vabbè chiaramente dipende molto da da come si è nel senso che se se uno cioè bisogna avere molta molta pazienza nell'entrare in contatto con il bambino molta anche un pochino quell'aspetto di tenerezza che magari non tutti hanno è diverso rispetto all'adulto e allo stesso tempo purtroppo spesso non lo si pensa ma purtroppo anche i bambini stanno male tanto a volte ci succedono anche delle cose brutte delle delle patologie che portano all'ex di stessa i bambini e spesso sono dei momenti molto difficili da superare anche proprio per per tutta l'equip medico infermieristico sanitario che sta intorno a quella famiglia a quella circostanza e quindi questo è difficile anche a volte da 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 sopportare insomma però davvero dà molta soddisfazione come specialità quindi ve la consiglio esatto e penso anche magari da parte dei genitori anche tra l'altro oltre che dai piccoli pazienti c'è la gratificazione magari certo certo assolutamente assolutamente diciamo che poi nel momento in cui loro si si sentono accolti si sentono presi in carico da da te si fidano ti danno la fiducia ti danno la fiducia di agire sulla cosa più importante che hanno che è il loro bambino quindi questo è veramente una cosa una cosa molto bella una cosa importantissima vero vero benissimo allora Silvia grazie per tutte queste info che ci hai dato finora se qualcuno ha qualche altra domanda magari ci lascia un commento qua sotto insomma in qualche modo vogliamo di di rispondere assolutamente grazie a voi per questa opportunità per questo spazio e a presto spero che che facciate pigliatria esatto esatto benissimo bene ragazzi questo è tutto ci vediamo al prossimo video grazie a tutti